Tutti quanti qui aspettiamo di capire dove deve andare questo governo, adesso superiamo questo 27 dicembre e io gli dico, secondo te questo governo ha la forza di realizzare un sogno? Mi dica solo sì o no? Un sogno, una visione, un disegno? Sì, sì e ancora sì, lo stiamo già facendo, anche se ho sentito prima Riotta che lo descriveva forse in un modo che a me sembra molto lontano, io vedo un governo che sta lavorando bene, vedo un presidente Conte che ci sta mettendo il massimo impegno, abbiamo avuto molta fortuna anche a poter trovare un presidente come Giuseppe Conte che sta facendo il primo lavoro anche a livello internazionale attraverso anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio, perché ci tengo l'altro a dirlo. Bene